Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, giovedì 11 marzo 2011, siete sul canale 17 di FanoTV, questo è Occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno, ben ritrovati cari telespettatori, partiamo subito dal Santo Poi il Tempo e i giornali, il Santo di oggi è San Costantino, il sole sorto alle 6 e mezzo, tramonterà 18 e 11. Uno sguardo anche al tempo grazie al bollettino della protezione civile delle Marche che per oggi prevede un cielo sereno, poco nuvoloso, attenzione però alle gelate, soprattutto nei fondovalle, per quanto riguarda la giornata di domani, venerdì 12, il tempo peggiora, vedete, torna anche la neve, avremo al mattino occasionali piovaschi o brevi rovesci sui settori montani, che diventeranno sparsi, questi fenomeni, piogge sparse, più intense nel corso del pomeriggio, quando localmente si estenderanno anche alla fascia costiera, ci sarà anche vento, vento di burrasca nei settori interni, poi sabato però il tempo migliora con precipitazioni, piogge soltanto debolissime, soprattutto al mattino sui Sibillini, ma in rapido dissolvimento, poi la seconda parte della giornata di domenica sarà invece caratterizzata da condizioni di debole maltempo, ma tutto sommato niente di che. Allora, i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, vaccini in palestra, prima i lavori, la palestra è quella della celletta a Pesero, lo sdoppiamento della sede alla celletta vincolato agli interventi, l'Asur punta sul lab unico all'ex Ristò, quindi punta soprattutto all'iperrossini, all'ex Ristò, quindi dove c'è più spazio, gli ospedali sono al collasso, il 54% dei ricoverati è malato di Covid, la regione blocca i letti delle strutture private, tragedie invece a Pesero sulle strisce pedonali, in via Flaminia muore travolto sulla carrozzina, e ancora linea adriatica ad alta e alta velocità, si parla delle marche dimenticate, l'isolamento si può superare, e sotto invece il sindaco di Pesero parla di politica, è sicuro, Enrico Letta è l'uomo giusto per il partito in declino, asili, braccio di ferro, comune minoranza sulle rette da scontare, a Fano, un uomo solo, soccorso in extremis dal 118, ucciso dal virus, vedremo chi è, è una persona molto conosciuta a Fano, la Galapalos d'Italia, ma adesso possono diventare un modello. Andiamo invece a vedere, di taglio basso, l'altra notizia di cronaca riguarda una mamma di 27 anni che sparisce ed è ritrovata in un canneto, ricerche nella zona del Trebbio della Sconfitta, siamo nei pressi di Pesero, ricerche che hanno avuto esito positivo, per fortuna, la ragazza di 27 anni è stata portata poi all'ospedale, sempre dalla prima del Corriere nel recupero la sfida salvezza tra Imolese e Fano, che finisce pari 1 a 1. E adesso il Carlino di Pesero, la tragedia di un disabile, questa è la fotonotizia di oggi sul Carlino, Antonio Cetta, 61 anni, era volto noto in città, Pesero girava sempre su una carrozzina, purtroppo un SUV lo ha colpito, travolto lungo la Flaminia, lui era sulle strisce, purtroppo non ce l'ha fatta. Zona rossa sì, ma con poche multe, tanti controlli, rari verbali, un runner pescato al campo scuola e molti si sono concessi la passeggiatina. Poi giovane madre scompare nel canneto, trovata in ipotermia, lunghe ricerche in zona di Santa Maria dell'Arzilla. E poi ruba un polpo, quindi un pesce a processo per 10 euro, se lo era messo in tasca, lo aveva rubato a Fano. Imbrattano invece discritte blasfeme, la scuola chiusa, caccia ai vandali, questo è successo ad Orciano. E poi intervento di Oriano Giovanelli, che parla di ospedale unico, non gettiamo tutto alle ortiche, i vaccini invece al rilento. Ora la Regione attende lo scatto di aprile, parla l'assessore regionale Saltamartini, mentre il direttore di malattie infettive dice il Covid si può prendere anche due volte. Fano agguanta un punto, ma potevano essere tre. Basket, Robinson, la VL, tornerà a giocare duro. Andiamo a vedere anche il Carlino di Ancona. Rischiamo un'ecatomba, addirittura fuga di infermieri dalle case di riposo. Siamo al collasso. Mentre sui vaccini a raffica poche sono però le dosi. L'assessore Saltamartini dice siamo sesti in Italia per le somministrazioni, ma aspettiamo nuove consegne. Molti, qui parlo ai fanesi, conoscevano Burro, così era soprannominato, il gigante Buono. Ebbene, purtroppo a 58 anni, lui da un po' di tempo si era trasferito a qualche anno a Castelfidardo, un grande tifoso dell'alma. Chi ha sulla cinquantina ricorderà sicuramente questa persona, anche se dalla foto si riconosce poco. Però la notizia di oggi è che appunto Massimo Alessandrini, detto Burro, è morto. È morto a causa del Covid. Da diversi giorni si trovava in isolamento nella sua abitazione perché era positivo al virus. La situazione poi è precipitata intorno alle 20 di domenica. è andato al Torrette di Ancona, qui è arrivato in condizioni critiche domenica sera dalla città di Castelfidardo, appunto, come dicevo, dove si era trasferito da diversi anni dopo essere stato soccorso nell'appartamento dove viveva da solo in un condominio in via Montessori. Purtroppo dopo un paio di giorni la situazione è precipitata e Burro non ce l'ha fatta. Tifoso Granata ricorda il Corriere Adriatico questa mattina, cordoglio anche per Fano Calcio. Un post è comparso ieri nelle pagine Facebook della società Granata. Il presidente Enrico Fattoffidani e tutta la società porgono le più sentite condoglianze. La famiglia di Massimo Burro Alessandrini e a tutti i suoi cari per la perdita del caro amico e tifoso Granata. Lavorava come operaio per una ditta di campo cavallo di Osimo e anche il resto del carino lo ricorda. Mentre sul Corriere ancora, giovane mamma sparisce nella notte, vigile del fuoco la trova in un cannetto. Sono state ore di ricerca, paura e affanno per questa 27enne di Santa Maria dell'Arzila, mamma di due bambini. Ore di ansia finché i vigili del fuoco, dopo una ricerca serrata nelle campagne attorno a Candelara, l'hanno trovata in posizione fetale, viva e in buone condizioni. Una guardia giurata di servizio aveva notato un'auto sul ciglio della strada, una Ford K. Aveva il portellone aperto, insomma una cosa abbastanza strana. All'interno dell'abitacolo sono stati trovati il telefono cellulare, altri effetti personali, documenti di immatricolazione. Vicino al sedile anche due siringhe che rendono poi la situazione ancora più complessa e drammatica. Ma sull'articolo scritto da Luigi Benelli che ha seguito questa vicenda per il Corriere Adriatico troverete tutte le informazioni. Scompare all'alba invece il titolo del resto del Carlino. La ritrovano in un cannetto, una ragazza di 26 anni, mamma residente vicino a Candelara, rinvenuta dai vigili del fuoco dopo nove ore. Era in stato di ipotermia, sono intervenuti decine di uomini oltre ad un elicottero ed erano attesi anche i droni. Mentre Ruba Polipo surgelato all'Ocean finisce a processo un 34enne diafragola Napoli che ha pensato di essere rapido nell'afferrare questa confezione di Polipo proveniente dai mari del sud prendendolo da uno scaffale dell'Ocean. Il valore non metteva paura, insomma, nemmeno 10 euro. Pochi centesimi 10 euro. Tony Chet, tra volte ucciso dalle strisce, sulle strisce, scusate, stava attraversando alle 16 di ieri in via Flaminia seduto sulla sua carrozzina elettrica. Un SUV lo ha urtato scaraventandolo a terra. Aveva 61 anni e dalla nascita una malformazione gli impediva di camminare. Un SUV lo ha travolto ucciso ieri pomeriggio alle 4 in via Flaminia a Pesaro, angolo via Comandino. Mentre attraversava con la sua carrozzina di strisce pedonali voleva raggiungere Piazza Redi. L'urto non gli ha lasciato scampo. Tony è morto sul colpo. Anche il Corriere Adriatico dedica una pagina intera a questa tragedia. Disabile travolto sulla carrozzina, ucciso mentre attraversa le strisce. L'incidente nel pomeriggio in via Flaminia, vittima un 61enne Antonio Cetta, conosciutissimo in città a Pesaro. Queste sono le immagini. Il suo sogno, una casa popolare in centro a Pesaro. Allora, premo adesso la piccola pagina di Covid. Questa mattina cerchiamo di essere un po' più tranquilli. Facciamo poca roba, poche notizie essenziali sul Covid. Italia tutta in zona rossa per Pasqua. Scontro sul lockdown del fine settimana. Domani la decisione finale dopo il monitoraggio settimanale dei contagi. Lega, Forza Italia e Movimento 5 Stelle contrarie a chiusure indiscriminate. Dunque, l'ipotesi al vaglio è quella di un coprifuoco esteso contro la Movida, contro coloro che non si rassegnano all'aperitivo, al bar, cosiddetto aperitivo o apericene, insomma quello che è. Weekend blindati anti-assembramento e poi al sud invece presidenti e sindaci anticipano la stretta. Dunque da De Luca fino a Antonio De Caro, insomma tanti governatori anticipano le mosse del governo. Intanto qui nella provincia di Peso Urbino, come vedete questa fotografia, maxi fotografia sul carlinio a pagina 2 di oggi, lockdown che è iniziato ieri nella provincia perché è diventata zona rossa insieme a quella di Fermo, ma l'inizio è soft. Pochi gli autisti sanzionati in strada, stangato un corridore, uno che correva a piedi al campo scuola, un runner segnalato e verbalizzato perché si era spostato dalla sua residenza senza una reale giustificazione e molti si sono mossi senza autocertificazione. Quindi va detto, va ricordato che anche oggi, fino a domenica, fino a quando saremo in zona rossa, ma così anche quando saremo in altre zone, ma particolarmente per la zona rossa, se si esce di casa è necessaria l'autocertificazione, quella di cui ci preoccupavamo tanto nel marzo scorso, un anno fa. Ecco, le cose non sono cambiate, sono le stesse, anzi forse anche peggio, quindi l'autocertificazione serve perché si deve uscire di casa, lo ricordiamo per l'ennesima volta, la milionesima volta, si può uscire di casa soltanto per necessità. Quindi se uno deve andare a fare la spesa, una persona per nucleo familiare senza che si porti tutta la famiglia completo, ci va il più robusto, ci va quello che è più in salute e va, entra, fa la spesa, niente passeggiate tra i corridoi, si prende il necessario e si torna direttamente a casa. Oppure se si ha bisogno di andare in farmacia, dal medico, ma solo per necessità urgenti, oppure per lavoro. Andiamo sull'altra pagina, gli altri devono stare necessariamente a casa, poi una boccata d'aria fuori nel giardino, si può prendere e nessuno dice niente. Gli ospedali al collasso, ecco perché bisogna stare a casa, perché gli ospedali sono al collasso, si continua a morire, ci si continua a contagiare, ad ammalarsi. La Regione blocca i letti nelle strutture private, lettera al Presidente IOP nella quale si chiede di rendere immediatamente disponibili i posti per pazienti Covid fino al termine dell'emergenza. Oggi ci sarà una ricognizione. Intanto, sempre dalle Marche, 60 ricoveri al giorno, il Covid ormai occupa il 54% dei posti totali nelle Marche. A marzo i pazienti sono saliti da 654 a 760, nonostante 389 dimessi e 111 persone che non ce l'hanno fatta e sono morte. Cappa di silenzio sulla città, il Sindaco, c'è sofferenza, operatori esasperati dal ritorno nella zona rossa, molti non ce la faranno. Quindi c'è una morte che è quella fisica, ma c'è anche una morte economica, una disperazione economica che è quella degli operatori. Siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico e i centri commerciali, come vedete, qui siamo a Sant'Orso, la piazza di Sant'Orso, e qui in questa foto più piccola in alto, invece quella di San Lazzaro, si sono spopolati improvvisamente, che da una parte è indice di sofferenza, soprattutto economica, ma dall'altra è indice di intelligenza, perché quando la piazza di un quartiere si svuota vuol dire che la gente è a casa e sta facendo il proprio dovere, perché da una parte non possiamo chiedere di restare a casa e dall'altra lamentarci che poi le piazze sono vuote. Mettiamoci d'accordo. Il Presidente degli albergatori dice così, non vediamo la luce in fondo al tunnel, ma meglio quella in fondo al tunnel di questo mondo che la luce di un altro mondo. In questo momento dobbiamo essere molto con i piedi per terra, sarà un colpo di grazia per molte attività, la preoccupazione di Giovanelli del CISL, la ristorazione in crisi. Ieri qualcuno mi faceva notare al telefono, un collega mi diceva, insomma, noi parliamo sempre di ristorazione, certamente i ristoranti sono in crisi e questo dispiace perché sono attività come tante altre che sono in crisi. Noi però ci siamo un po' focalizzati sui ristoranti, sui bar e quant'altro, ma non ci sono soltanto i ristoranti. Una volta il ristorante era un lusso, si andava soltanto la domenica, adesso ci si va tutti i giorni e va bene, ma questo è un altro discorso. Però quello che voglio dire è che non ci sono soltanto i ristoranti e i bar a soffrire tanto, ci sono tantissime altre categorie, ma diciamo, mettiamola così, che sotto la voce ai ristoranti, ristoranti, ecco, sentitevi compresi un po' tutti quanti, quelli che stanno soffrendo questa pandemia dal punto di vista economico, non tanto sanitario. Intanto sulla pagina di Fano del resto del Carlino, all'Arzilla è pronta la vasca, il Lido dunque può hissare la bandiera blu, perché? Perché questa vasca servirà ovviamente per evitare che il tratto dell'Arzilla si inquini, soprattutto quando ci sono piogge molto incessanti. L'opera sarà inaugurata a maggio ed eviterà lo sversamento in mare che tanti problemi di balneabilità creava sulle spiagge, alle spiagge antistanti. Reginelli, che è il presidente di Aset, che ha realizzato quest'opera, dice è l'unico impianto del genere nelle Marche, forse addirittura anche in Italia. Mentre Piazzale Amendola tutto fermo, l'impianto c'è ma non funziona. Secondo Ilari il Comune non ha provveduto all'allaccio Enel, ennesima presa in giro per i cittadini. Poi sul canale Albani di Fano, in via Kennedy, un altro smottamento causato dalla pioggia. Enel, cui spetta la gestione, dovrebbe intervenire per sistemare gli argini. Carignano, la questione delle terme di Carignano, siamo sempre a Fano. Ora, o le terme o niente, questo è il titolo. L'assessore Fanesi chiarisce, dopo i rumors, dopo le voci, la nuova proprietà ha detto però che non è assolutamente vero, secondo quanto riportato ieri dal giornale, che non vogliamo ripristinare le terme all'interno di questa struttura. Ieri si parlava di fare una clinica estetica, una cosa di questo genere, e non di ripristinare appunto le terme, che invece erano molto importanti. Ora, chiaramente, detto questo, Maurizio Natali, che insomma parla per la proprietà, entra nello specifico della questione, dice non è assolutamente vero che non vogliamo riaprire le terme, scrive, dice anzi, certamente si è davanti ad un progetto che va ben ponderato, cioè bisogna pensarci bene sulla scorta, soprattutto della capacità dei pozzi delle acque termali. Il tutto deve essere valutato attentamente anche alla luce di quello che è accaduto prima. Comunque, da parte nostra, le terme, dice Natali, si faranno. E questa è invece quindi una buona notizia. Si svuotano le scuole materne, l'effetto della crisi economica, forte calo, sempre da Fano, forte calo nell'arco di un lustro, mascheri indice tra qualche anno il fenomeno alle primarie. Intanto sotto addio a padre Filippo, era guarito dal virus, aveva 92 anni, fu missionario in Perù prima del servizio a Fano, il funerale si terrà domani alle ore 10 nella chiesa del porto e a ufficiale d'esequie ci sarà appunto il vescovo di Fano Armando Trasarti, la tumulazione poi nella tomba di famiglia al cimitero di Saltara. I vandali invece, siamo sulla cronaca della Val Cesano a Mondavio, entrano in azione alla scuola media, condanna di due sindaci, scritte fasciste e pseudosentimentali, ma in realtà io ho visto le immagini al di là delle scritte fasciste e pseudosentimentali, le bestemmie da tutte le parti, uno sfregio per l'intero territorio. Io dico, comunque l'edificio chiuso per lavori al confine tra i comuni di Mondavia e Terre Roveresche, però era in fase di, credo, sistemazione. Poi, per quanto riguarda invece la pagina di Vallefoglia, da Monbaroccio, dal Beato Sante a Fenile in bicicletta, studio di fattibilità per la nuova pista. Qui vedete i sindaci di Fano Massimo Seri e di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che tra l'altro sarà nostro ospite l'umedi prossimo qui a Primo Cittadino, sono al lavoro per un percorso che metterà in sicurezza anche gli argini del fiume. Mentre da Vallefoglia, raddoppio del depuratore, tempistiche rispettate, Marche Multiservizi, ora sta appaltando il cantiere dei collettori. Da Urbino, via al bilancio di previsione, la sanità, la grande incognita, i sindacati approvano l'impianto di Gambini, più energia per sostenere l'ospedale. Mentre nel comune di Fermignano, digitalizzazione compiuta, le novità presentate dal primo cittadino con l'Unione Montana. A Fossombrone, invece, al nido, le mamme vogliono anche l'educatrice sostituita. Due lettere di protesta, era stata garantita la compresenza fino alla fine dell'anno scolastico, evidentemente così non è stato. Il cambiamento improvviso della figura di riferimento ha disorientato in tanti. A Montefelcino, invece, argini da rafforzare per proteggere il depuratore sopra il luogo di provincia e comune, danni anche alle coltivazioni. Sempre da Fano, Passaggi resta una certezza, il Festival Passaggi, presentate le date 18-25 giugno. In quella data, più o meno, dovremmo essere fuori da questa pandemia. Incentrato il tema sul senso dell'infinito e provvisorio in epoca Covid. Speriamo che non sia un festival della tristezza. Insomma, adesso, al di là dell'infinito e del provvisorio, cerchiamo anche di tirarci su. Quindi speriamo che ci siano temi che guardino al futuro e che ci diano speranza. L'appuntamento del mattino raddoppia a Lidio e a Torrette e poi la rassegna anno per anno di Sinibaldi. Poi sotto, invece, è ancora la questione del trapper di Sant'Orso. Questo trapper ci ripensa. Dopo le polemiche nel quartiere, il rapper forse empronese annuncia di aver scelto una zona fanese diversa da quella di Sant'Orso per raccontare questa volta una bella storia. Dice lui, faccio un altro video, ma positivo. Sui social mi offendono, racconta, ma quelle immagini sono state fraintese. Si sa, si tratta solo di una ambientazione. Intanto i lupi a Senigallia, vicino alle case, paura tra i residenti. A Corinaldo il sindaco Matteo Principi lancia l'allarme. Si susseguono i casi di animali uccisi con gravi danni per gli agricoltori. Informati gli uffici dell'Asur, ma anche il governatore delle Marche. Questo è uno dei tanti esemplari che vengono avvistati e fotografati. Il marito muore dopo lo schianto. Condannata la moglie che guidava, guidava l'auto durante lo scontro in cui ha perso la vita il marito, patteggia a dieci mesi. I fatti risalgono al 30 luglio del 2019, quando nella Fiat Cubo condotta dalla moglie di Stefano Giancamilli, un 64enne di Ostra, molto conosciuto per aver gestito il caffè del teatro, si è scontrata con un camion a pollenza. Un impatto violento in cui l'uomo ha perso la vita, mentre la moglie era stata ricoverata per le numerose lesioni nello scontro. L'auto dopo l'ulto si era ribaltata. Inizialmente la scena del sinistro presentava una mancata precedenza da parte della moglie del 64enne. Per lei si è profilato il rischio di essere condannata per omicidio stradale. Sempre da Senigallia, questa volta il Corriere salta alla luce, la DAD, la didattica a distanza è un'odissea, le lezioni si fanno sul cellulare a Montignano, blackout fino alle ore 13. Poi positivi 120 studenti del senigallese. Andiamo a vedere velocemente la pagina di Sport. Fanno un punto di speranza nello scontro salvezza a Imola. Imolese 1, Alma Juventus fanno 1. I Granata rimontano e strappano un pari che lascia tutto come sta. Nella ripresa l'Alma va vicino al gol vittorio. Adesso la Vispesaro, ovvero la salvezza diretta, è a meno 3, c'è anche il derby. Allora, ci salutiamo qui per la rassegna stampa e tutto. Vi ricordo l'approfondimento in studio questa sera alle ore 21 sulla rassegna di arte, cultura e pari opportunità dal titolo Impronte femminili. È tutto, ci vediamo alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati con noi, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.